Benvenuti spettatori di Le Fonti TV ad una nuova puntata del nostro Instant Focus dedicata a un argomento di estrema attualità, la crisi del settore bancario e come potete vedere anche dalla strap dal titolo della nostra trasmissione, gli strumenti della finanza alternativa proprio in questo contesto di estrema incertezza e volatilità diventano sempre più centrali e cercheremo di capirne di più grazie soprattutto all'aiuto dei miei ospiti che mi hanno raggiunto qui in studio, ovvero Alessandro Toschi, CEO and Founder di AM Advisor, bentornato. Grazie dottoressa, grazie dell'invito. E il dottore Karim Sgaier, Signor Advisor di AM Advisor, benvenuto alle fonti TV e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie mille, buongiorno. Buongiorno a lei dottor Sgaier. Io direi partiamo proprio da una panoramica generale perché come ho detto nell'introduzione il settore bancario appunto è attraversato comunque da una crisi, lo abbiamo visto sia negli Stati Uniti con il caso di SV Bank, di First Republic Bank e poi anche in Europa invece con Credit Suisse. Ma quelli che ho citato dottor Sgaier sono dei casi isolati oppure si può parlare invece di una vera e propria crisi sistemica? Allora, cominciamo già per capire da dove viene. Sì. Partiamo di un cambiamento di paradigmo perché abbiamo un rialzo dei tassi. E la prima conseguenza di questo cambiamento di paradigmo è che il settore bancario ovviamente deve affrontare delle perdite legate a questo rialzo. Non sarà l'unico settore che dovrà affrontare quello perché sappiamo che anche il settore immobiliare è a rischio. E sicuramente abbiamo dimenticato perché fa dieci anni fa che viviamo con dei tassi bassissimi. Quindi adesso c'è una nuova realtà che ha un impatto, devo dire, sicuramente meno maggiore di quello del 2009 che abbiamo conosciuto perché fortunatamente comunque il sistema bancario, possiamo paragonare tra il sistema europeo e americano, sappiamo che le banche sono sottoposte alle regole di Basilea 3. Le banche maggiori americane sì, ma non quelle secondarie. Certo. E per quello che sono saltate le secondarie banche. Però invece sappiamo poi che affrontiamo una crisi di fiducia sulle banche debole. Allora abbiamo cominciato dal caso Credit Suisse, che è stato risolto comunque in quattro giornate. Sì. Quindi poi adesso c'è pressione su Deutsche Bank, sappiamo che magari una banca come Societe Generale sulla Francia potrebbe soffrire. Invece quello che è interessante di notare è che il sistema bancario per sé sarà sicuramente sommesso a molta volatilità, però non siamo più nei rischi o diciamo nella contagialità che c'era in 2009. Quindi direi che comunque siamo meno esposti di prima, però ci dobbiamo aspettare ancora un po' di sorprese perché c'è una problematica con il settore bancario che analizzare in profondità i bilanci bancari è molto complesso perché c'è sempre una parte un po' nascosta, un po' ammovibile direi che non aiuta ad analizzare veramente. Poi c'è un altro paradigma importante che c'è la concentrazione di queste banche. Adesso abbiamo visto la reazione a Svizzera, non si poteva permettere di lasciare uno dei suoi due gioielli sparire così perché poi c'è il rischio a livello reputazionale, a livello della nazione proprio. Quindi dovremmo ancora affrontare delle conseguenze di questo rialzo delle tasse, però siamo a meno rischio. Invece vedremo anche perché, secondo me, la tematica di oggi, la finanza alternativa e altri modi per finanziare in modo alternativo le ente o le imprese cambierà. Chiaro. Ecco, già dalla prima risposta il dottor Sgaier ha messo sul piatto davvero tantissimi temi. Certamente quello del rialzo dei tassi che ha contribuito a generare questa situazione così difficile che ha messo in crisi il sistema bancario, il tema della fiducia naturalmente anche degli investitori che coinvolge poi tutto il sistema creditizio. Una situazione quindi complessa, anche se in questo momento possiamo tirare forse un pochino più un sospiro di sollievo rispetto a qualche settimana fa, anche per l'intervento tempestivo delle banche centrali, però la situazione rimane naturalmente sotto osservazione. E qui entriamo proprio nel merito dell'argomento, introducendo il tema della finanza alternativa. E io direi, dottor Toschi, partiamo proprio dalle definizioni, dall'ABC, perché sicuramente i nostri telespettatori conoscono bene la materia, l'argomento, però per quei pochi che non fossero proprio addentro, che cosa si intende esattamente per la finanza alternativa? Allora, cerchiamo di semplificare un po' il discorso, nel senso che la finanza alternativa è sempre stata comunemente denominata con un inglesismo che viene chiamato appunto fintech, quindi financial technology. In particolare c'è da fare un doppio binario, dividere un po' l'attenzione su un doppio binario. Possiamo parlare di fintech e possiamo parlare di techfin, che sono due termini completamente diversi. Da un lato c'è l'attenzione finanziaria, che viene in qualche modo aiutata dalla tecnologia. Dall'altro c'è la tecnologia che viene applicata alla finanza. Tutto questo ha comportato che cosa? Ha comportato una messa in campo, una messa in scena di un nuovo concetto, che per l'appunto viene chiamato fintech, che però per parlare appunto in italiano è conveniente denominarlo una finanza alternativa. Perché alternativa? Perché alternativa al sistema bancario, alternativa al circuito bancario. Questo non significa che si è al di fuori da qualsiasi tipo di parametro di valutazione da parte di terze parti, assolutamente no. Si tratta però di comprendere il fatto che non si è oggi un sistema solamente bancocentrico, ma abbiamo oggi una serie di opportunità, per l'appunto date dalla finanza alternativa, che consentono soprattutto alle imprese e soprattutto alle piccole e medie imprese di sopperire a quelle che possono essere le problematiche di accesso al credito. La finanza alternativa è nata più o meno intorno agli anni 2015-2016. Si è fatta breccia nei paesi anglosassoni, dove c'è una velocità diciamo di assimilare concetti nuovi o tecniche nuove, e piano piano si è migrata diciamo nel continente europeo. In Italia abbiamo cominciato a vedere i primi, come dire, spiragli della parola fintech o comunque delle prime soluzioni intorno al 2017. Dal 2017 al 2023 il fintech non è una alternativa, è una soluzione. E questo è stato il grandissimo, come dire, valore che il fintech è riuscito a fornire al mercato, dare delle soluzioni nuove, alternative appunto, al sistema bancario. Laddove il sistema bancario purtroppo, a far data dal 2008 e poi con tutta una serie di conseguenze che purtroppo conosciamo, sempre di più è riuscito, sempre meno, chiedo scusa, è riuscito a sopperire a determinato tipo di richieste. Quello che ha permesso la finanza alternativa è stata quella di consentire all'impresa di dire non solo la mia controparte è la banca, ma posso trovare altre soluzioni. Per dare dei numeri, per scendere molto sul pratico, consideriamo che ad oggi, diciamo, su base annua c'è una crescita dell'invoice trading in Italia di oltre, e ogni invoice trading è un tipo di strumento di finanza alternativa che consente la cessione dei crediti commerciali, c'è stata una crescita anno su anno dell'oltre 40%. Il comparto fintech in generale a livello europeo è cresciuto del 4% all'anno, sempre in costante aumento, cosa che è diminuito invece il ricorso a attività prettamente bancarie da parte delle imprese. Perché? Perché il fintech è una parola inglese, la finanza alternativa può magari spaventare perché non si parla di banca, ma in realtà la verità è molto semplice. Si parla e si tratta di soluzioni che vanno a digitalizzare dei processi che già conosciamo, dal factoring alla cessione delle fatture, piuttosto che all'ottenimento dei finanziamenti. Si tratta di semplificare l'accesso al credito alle imprese. Questa è la finanza alternativa. Chiarissimo. Ecco, certo, tutto il processo di digitalizzazione è stato determinante per far affermare la finanza alternativa e abbiamo detto che non è solo un'alternativa, ma è una soluzione. Io cito la sua parola rispetto ad un sistema bancocentrico, come giustamente lo ha definito. Un sistema che però dal 2008, dalla crisi delle Man Brothers, naturalmente è entrato in crisi e che ancora periodicamente dimostra delle crepe. Questo lo dobbiamo sottolineare. Resta un attimo ancora da lei, dottor Toschi, per entrare ancora più nello specifico e spiegarci poi nel concreto quali sono poi gli strumenti esattamente della finanza alternativa. Diciamo che la finanza alternativa si è in qualche modo palesata, mettiamola così, con due prodotti principali che poi oggi fortunatamente tendenzialmente un po' tutti conosciamo, al netto di qualche eccezione, ahimè ancora presente, soprattutto sul panorama italiano, diversamente dall'Europa, dove il tema fintech è ormai all'ordine del giorno. I due strumenti sono l'invoice trading e il crowdfunding, che ormai tendenzialmente conosciamo un po' tutti. Però che cosa hanno concesso questi due strumenti? Hanno concesso di rivedere determinati tipi di pratiche. In qualche modo l'invoice trading è andato a sopperire al tema del factoring bancario, così come lo abbiamo sempre conosciuto. Consentire a un'impresa oggi, ribadisco con l'invoice trading, di caricare su piattaforma dei crediti commerciali che vengono poi acquistati da fondi istituzionali e da investitori privati, realizza un duplice obiettivo. Da un lato l'impresa, utilizzando l'invoice trading, ottiene il 90% del valore nominale della fattura entro 48 ore sul proprio conto corrente. Ma altri due sono i vantaggi. Il primo è che con l'invoice trading l'impresa cedente e l'impresa ceduta, quindi parliamo di creditore e debitore, non vengono segnalati in centrale rischi. Ecco che torna il tema del bancocentrismo in qualche modo. Essere fuori dal circuito bancario consente all'impresa quindi di ottenere che cosa? Ottenere un circolante che viene aumentato e un abbassamento dei crediti commerciali attraverso l'invoice trading. Questo è un prodotto che noi suggeriamo alle imprese, le assistiamo, le supportiamo nell'introdurle, diciamo, in questo contesto, in questo strumento, e rappresenta oggi, come diceva giustamente la dottoressa, non un'alternativa, ma mi creda una prima soluzione per quelle che sono anche e soprattutto le piccole e medie imprese. E l'invoice trading è sempre di più, si sta utilizzando, per un motivo molto semplice, che l'Italia è capofila, negativo purtroppo, della durata media dei pagamenti. Parliamo di 82 giorni di pagamento medio delle fatture. Un'azienda su tre, solo un'azienda su tre, salda con puntualità le fatture, quindi significa che io due terzi di quelle aziende mi vanno o inesigibili o in crediti in sofferenza. Ecco, tutto questo comporta un rischio di filiera. Rischio di filiera che, proprio attraverso anche l'invoice trading, potrebbe essere mitigato. Come? Facendo capire ai fornitori o ai creditori che attraverso uno strumento digitale, che ha tendenzialmente gli stessi costi del sistema bancario, se non fosse altro che la flessibilità, la velocità e il fatto di non andare all'interno della centrale rischio e quindi di essere al di fuori del circuito bancario, comporta notevoli vantaggi. Il secondo strumento è stato il crowdfunding. Crowdfunding che abbiamo esploso, diciamo, in due varianti fondamentali. Equity crowdfunding da una parte, lending crowdfunding dall'altra. Equity crowdfunding è nato moltissimo come strumento per le start-up per iniziare, logicamente, la loro fase di avvio, quindi di seed, in qualche modo. Oggi, però, l'equity crowdfunding viene utilizzato anche da holding di partecipazioni, piuttosto che società già strutturate, che vogliono, in qualche modo, come dire, rivedere la loro organizzazione societaria e azionaria e, perché no, utilizzare lo strumento del crowdfunding consente loro di avere nuovi investitori da poter portare a bordo. Il lending crowdfunding, invece, è stata la digitalizzazione dei prestiti bancari. Per chi oggi ho la possibilità, io ho impresa, di entrare in una piattaforma di lending crowdfunding, richiedere un finanziamento e avere, dall'altra parte, ovviamente, metaforicamente parlando, degli investitori che mi fanno delle proposte, appunto, per finanziarmi. Diventa un prestito, come si dice in gergo, peer-to-peer, quindi tra persone e tra privati, che però realizza oggettivamente gli stessi benefici di un finanziamento bancario, con un grande vantaggio. La tempistica, la velocità e la flessibilità di esecuzione. Questi sono i due grandissimi strumenti della finanza alternativa. Molto velocemente, altri strumenti della finanza alternativa un po' più conosciuti sono il private equity, il venture capital e, aggiungo, anche tutto il tema dei mini bond. Perché oggi i mini bond possono essere uno strumento per le stesse imprese, piccole e medie, ma anche grandi imprese, per finanziarsi e per, in qualche modo, come dire, aprirsi anche agli investitori sul mercato. Quindi non solo banche, ma finanza in generale. È stato chiarissimo, dottor Toschi, nella spiegazione di tutti gli strumenti, i vari strumenti della finanza alternativa, ha arricchito anche il nostro glossario, perché poi, tra l'altro, molti termini sono importati appunto dalla lingua inglese e bisogna però contestualizzarli e anche chiarirli. Quindi, ecco, la ringraziamo per questo contributo. E torno invece dal dottor Sgai, perché abbiamo detto, ecco, che sicuramente c'è un problema di accesso al credito. Lei lo sottolineava nella sua prima risposta dal 2008, dalla crisi appunto di Lehman Brothers. È diventato sempre più difficile, no, per le aziende. Ecco, l'accesso al credito e questo è peggiorato in un contesto attuale, fatto naturalmente di inflazione e poi tutto il contesto anche internazionale, la crisi geopolitica. Quindi, insomma, diversi fattori che dobbiamo tenere sul banco. La finanza alternativa, abbiamo detto, è una soluzione, ma ci può spiegare perché è vantaggiosa? In cosa consiste concretamente il vantaggio per le imprese e per le aziende? Allora, la prima cosa, effettivamente, è avere un'alternativa alle banche, che avevano un monopolo su questo. La flessibilità, la tecnologia adesso, permette, e sappiamo che per un'impresa è chiave la velocità di esecuzione. Poi c'è il fatto anche che possono raggiungere raggiungere dei investitori che non avrebbero mai raggiunto in modo più classico, che va tramite... Adesso abbiamo visto nascere anche, in visita, per esempio, dei fintech su emissione di mini bonds a molto breve termine, con un sistema di rating quasi automatico. Quindi l'impresa deve sottoporre dei bilanci, si genera un tipo di rating e la piattaforma dà accesso a questo. Gli investitori vedono e scelgono se vogliono un rating, allora l'obbligazione può essere... È un po' come un mercato fatto ad hoc, dove ognuno può scegliere, anche se due ammontanti piccoli. Sappiamo che è una cosa interessante, che secondo me è un grande vantaggio. Il problema per trovare delle somme a dire 10 milioni è facile. Sotto 10 è più complicato. Perché? Perché è lo stesso tempo per un analista bancario di studiare un dossier di un'impresa per una somma o un'altra. Invece sulla piattaforma, visto che è velocizzato, possiamo trovare e avere accesso a piccoli investitori privati, che magari a loro mettere un 100 mila di investimento, anche 50 mila, che può aiutare una piccola impresa. Quindi apre anche l'accesso ad investitori che sono diversi. Aggiungo un'altra cosa anche sul fattore della finanza alternativa, nel senso dei investimenti. Cosa significa alternativa? Per completare quello che è stato detto prima da Alessandro, alternativa significa decorrelato del mercato. E' quello che significa. Quindi, ultimamente abbiamo, da quando è finito il Covid, con l'Advisor abbiamo organizzato cinque conveni a Roma, dove abbiamo presentato delle tematiche alternative che corrispondono a una energia rinnovabile, private placement, delle visioni nuove, dei fondi longshore, che hanno delle strategie robuste attraverso il tempo, su 20 anni, che permettono di generare comunque un 12% annuale. E si è aggiunto un altro criterio, che è il criterio ESG. Adesso abbiamo questa doppia problematica che l'investitore, l'ente previdenziale o il mondo istituzionale deve affrontare uno, sapere dove investire, ha dei criteri ESG nuovi che non sa esattamente come assorbire nelle sue scelte e l'idea nostra era di insegnare, educare e accompagnare dall'altro lato le aziende perché si parla di linguaggi nuovi adesso. Certo. Sia per un imprenditore che non sa rating ESG, cosa devo fare, cosa devo dire. Io prima sono imprenditore, devo vendere la mia azienda, le sue perspettive, devo trovare un finanziamento che ne è troppo alto. E dall'altro accompagnare queste somme perché ci sono le somme di liquidità importantissime nel mondo istituzionale che non sanno come raggiungere queste imprese. E bisogna fare questo legame, la finanza alternativa è uno di questi nuovi legami. È chiarissimo. Ecco, lei ha citato un po' la parola chiave a cui volevamo arrivare cioè ESG e naturalmente ecco il rispetto delle norme e delle normative riguardanti appunto il settore degli ESG è un aderimente poi nella corsa al credito perché è chiaro che saranno privilegiate le aziende che rispettano ecco le normative in fatto del rispetto dell'ambiente e della governance e quindi ecco le chiedo dottor Toschi se appunto questo rispetto delle normative ESG non è più solamente un surplus ma è diventato in realtà una necessità fondamentale. È diventato una fondamentale ma una fondamentale intesa come KPI interno all'azienda quindi è diventato come dire un baricentro entro il quale l'azienda deve attivare e deve muovere tutte le proprie azioni ma questo si sposa e si lega a doppio filo con la tematica della concessione dei finanziamenti da parte delle banche o da parte della finanza. Sappiamo benissimo e l'abbiamo detto anche nella precedente intervista che le banche oggi sono già in qualche modo invitate mettiamola così dall'autorità bancaria europea ad introdurre i criteri ESG nella concessione e nel monitoraggio del credito alle imprese ma laddove i criteri ESG riflettano una grandissima diciamo immagine dell'azienda è proprio attraverso i canali della finanza alternativa perché per un concetto molto molto semplice la velocità perché un'impresa oggi attraverso una piattaforma attraverso una digitalizzazione di processi può ottenere in maniera molto più veloce finanza corroborata però da che cosa? Da un'analisi già sottostante del suo livello ESG a differenza di quello che purtroppo oggi avviene ancora magari a livello bancario dove c'è ancora un po' di in qualche modo confusione su che cosa significa effettivamente valutare un'impresa in ambito ESG oggi ci sono tutta una serie di soluzioni automatizzate che consentono all'impresa di ricevere un rating ESG di portare il rating ESG su una piattaforma fintech e di farsi valutare appunto in maniera molto veloce e molto immediata gli ESG sono fondamentali però poi per un altro motivo che forse è il motivo di rimente per il quale come diceva appunto il dottor Sgaier non si riesce a trovare a creare questo ponte tra le banche e la finanza e l'economia reale ovvero sia la governance la governance è oggi una mi viene da dire questa parola ma non vuole essere negativa ma positiva un adirimente per l'ottenimento di finanza o per l'ottenimento del credito perché siamo sempre stati troppo abituati fino ad oggi a ragionare su un tema imprenditoriale a breve termine quello che invece compie il mondo ESG è di spostare la tematica dal breve termine al medio e lungo termine dove noi seguendo poi diverse imprese sia in Italia che all'estero dove la guerra oggi è sulla liquidità a breve effettivamente per la quale assistiamo e accompagniamo le imprese in una serie di strategie per la liquidità logicamente ci rendiamo conto che oggi rivedere la corporate governance diventa il primo biglietto da visita da portare davanti alle banche e alla finanza o agli investitori istituzionali crediamo questo perché oggi c'è una necessità importante di crescere le nostre imprese secondo modelli che oggettivamente tendono ai prossimi 20-30 anni utilizzare il modello che oggi è presente nel mercato italiano e anche tendenzialmente nel mercato europeo per quanto mi concerne per quanto ci concerne rischia sempre di più di essere un deterrente per l'ottenimento del credito e non viceversa ecco anche qui ha posto sul piatto un'altra parola chiave che è governance anche perché abbiamo visto e mi rivolgo al dottor Sgayer che la crisi del sistema bancario è comunque legata a doppio filo ecco al problema della governance al problema ecco della gestione del rischio quindi ecco possiamo dire che rispetto all'acronimo ESG Environmental Social and Governance Governance è proprio il termine fondamentale direi di sì allora è più complesso ma direi che è un componente che è sempre sottovalutato perché quando parliamo di ESG la gente si concentra sulla I environment perché l'hanno pensato così invece ESG è molto più ricco come concetto la governance lo vediamo per la crisi delle banche sappiamo anche che in termini di governance ritorno al fattore iniziale che torniamo da dieci anni di tassi bassi avevamo un accesso alle liquidità immediato facile quasi a costo zero quindi chi governava non ha preso in considerazione realmente il rischio di un rialzo forte dei tassi quindi in termini di gestione dei rischi e sappiamo che finché il rubinetto della liquidità è aperto ne approfittano soprattutto quando dura dieci anni perché poi all'inizio ci ricordiamo un po' la crisi dietro di noi poi dopo dieci anni abbiamo dimenticato e abbiamo sempre pensato così quindi è fondamentale di avere una governance che tiene in considerazione uno di questi aspetti qua di cambiamenti di paradigma sul rischio globale sia sul sistema bancario e poi l'impatto più globale perché il sistema bancario è una cosa vedremo adesso le conseguenze sull'immobiliare e altre bolle vediamo anche altri paradigmi che dobbiamo prendere in considerazione perché la tech evolve in modo molto forte e sappiamo che questa governance dovrà prendere in considerazione adesso l'arrivo dell'intelligenza artificiale e altri parametri quindi io direi che sì la governance è sicuramente il parametro che è stato preso di meno in considerazione nell'analisi di rischi che invece è forse il più importante ecco dottor Toschi ma perché ci spiega ecco perché la governance influenza anche i due altri parametri quindi environmental e social e soprattutto come si può rivedere e migliorare il sistema della governance in Italia e all'estero diciamo che io ho sempre sostenuto questo ovvero sia che c'è stato sempre un problema di ordine letterale nell'acronimo SG cioè se partiti dalla lettera diciamo se partiti un po' al contrario io lo avrei esattamente invertito letteralmente GSE ma per un motivo molto semplice per un approccio piramidale al tema SG la G è l'input da cui possono derivare i due output environmental e social ed è evidente sembra quasi la palissiano dirlo ma è normale che se non c'è una corporate governance di un certo livello e parlo per livello parlo di determinati tipo di azioni attenzioni e azioni quindi che vengono portate avanti non ci possono essere politiche ambientali e politiche sociali che riflettano poi un valore aggiunto per l'impresa quindi quando parliamo con diverse aziende medie, grandi multinazionali anche ci rendiamo conto che il tema della governance è sempre quello che viene un po' meno preso in considerazione cosa che invece noi diciamo è esattamente il primo livello da cui partire per impostare poi tutte quelle che sono le azioni in termini ambientali in termini sociali e per un motivo molto semplice questo ci viene facile occupandoci noi ovviamente di finanza ma io dico sempre mi piace dirlo la cornice su cui si muove tutta la nostra azione è quella di fare per le imprese e i nostri clienti relazioni istituzionali noi assistiamo e accompagniamo le imprese per aprire dei mercati e per approcciare un dialogo con le istituzioni bancarie, finanziarie e di qualsiasi genere ma un'impresa oggi per approcciare il mondo istituzionale e per approcciarlo nella maniera corretta deve avere una corporate governance al passo con i tempi quello che vediamo sul mercato è che ci sono moltissime imprese che si stanno già attrezzando questo e non mi ribadisco solo al fatto delle quote rosa attenzione mi ribadisco a tutta un'altra serie di azioni che possono essere portate avanti una su tutte determinare la remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione anche in base al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ecco che allora si capisce che l'azione dell'impresa non è solo tesa al fatturato ma è tesa a generare valore anche all'esterno e all'interno della stessa impresa quindi la governance Savasandir è la prima e unica cosa oggi su cui puntare effettivamente tutto quello che può l'azienda dalla governance inevitabilmente discenderanno politiche ambientali e sociali a questo punto però concrete chiaro dobbiamo rovesciare quindi un po' la piramide ecco sì rispetto a quello che ci hanno proposto e poi appunto questo aspetto anche di concretezza perché sulle tematiche ESG in realtà all'inizio soprattutto si parlava in termini molto astratti dogmatici invece c'è un aspetto estremamente pragmatico che dobbiamo tenere in considerazione ecco questo è un po' il punto assolutamente torno dal dottor Sgaier per un'ulteriore domanda perché questo ecco per gli investitori naturalmente è un periodo estremamente complesso lo abbiamo detto caratterizzato da estrema incertezza estrema volatilità con crisi che si generano ormai una via via l'altra i famosi cigni neri che si moltiplicano purtroppo in questo periodo ecco naturalmente gli investitori tendono a voler difendere i propri capitali ed allocare al meglio il proprio asset quali strategie secondo lei verranno adottate sia nell'immediato futuro sia invece a lungo termine? Allora nell'immediato futuro lo vediamo perché siamo sollicitati ogni giorno direi vediamo che la strategia liquidità sul quale abbiamo fatto la ripresentazione e sul quale abbiamo molte richieste è quella dove abbiamo il più di richieste e il più di successo perché da una liquidità giornaliera permette di fare lavorare a tesoreria con una visibilità mensile direi ma liquidità giornaliera e sapendo che in periodo di volatilità e di incertezza le imprese le ente presidenziali le istituzioni in generale preferiscono assicurare già il futuro immediato finché capiscono cosa succederà ricordo che nella crisi del Credit Suisse i Tier 1 sono stati strapati quindi sappiamo che chi pagherà la notta come diciamo noi sono asset manager prima e direi l'ordine di protezione tra equity holder e bond holder è stato invertito in questo caso particolare e anche se era tutto legale di farlo adesso per chi deve investire nel mondo obbligazionario guarderà due o tre volte prima di investire sulle azioni bancarie almeno e altri meccanismi così quindi vediamo già un primo riflesso di protezione dicendo preferisco usare una strategia di liquidità disoreia adattato che usa poi la volatilità dei mercati per generare una piccola cedola e fare dei roll mensili e andare avanti così per proteggere poi c'è e ancora fa parte della finanza alternativa c'è il successo dei price placement quindi i mini bonds che sono su delle aziende o dei business model decorrelati dei mercati e dove qua si può trovare una cedola veramente interessante perché comunque siamo in periodo e questo è il cambiamento di paradigma torniamo a un mondo di obbligazioni azionario dove vediamo dei yield e delle cedole che vanno da 7 fino a 10 12% su certi price placement con delle garanzie forti quindi tra andare sul mondo azionista o andare sul mondo dei settori che sono a rischio come il mondo o diciamo volatili col mondo bancario mondo bancario ma anche come ho detto l'immobiliare o altri settori vediamo almeno noi parliamo per gli enti previdenziali europei che ci hanno sollecitato vediamo questo appetito per meno rischio più liquidità e cash is king si dice in termini di crisi e se ci ricordiamo 2009 era il credit crunch che era il peggio di tutto perché dal momento in cui non avete più la possibilità di liquidare le vostre posizioni all'epoca era il mondo dei fondi alternativi e poi gli hanno messo dei gate eravete chiusi per cinque anni o di più quindi adesso in un mondo è una situazione come quella anche se meno grave di quello che abbiamo conosciuto il riflesso è di dire io rimango liquido certo e cerco anche una maggior protezione perché appunto capitale protetto e delle cedole garantite o almeno ben pensate con delle probabilità interessanti e aggiungo se mi è concesso dottoressa il legame è strettissimo anche qui con il tema ISG perché altri due strumenti diciamo o comunque chiamiamoli varianti diciamo della finanza alternativa che oggi stiamo vedendo con molta attenzione perché ci provengono diverse richieste sono il green bond e il sustainable link bond cioè sono dei prestiti che vengono però strutturati in funzione di quello che sarà l'impatto che l'azienda riuscirà ad avere nel corso degli anni sui temi della sostenibilità ecco che allora si intuisce come ISG non è ribadisco come dico spesso una moda ma diventa oggi un addirimente per un'azienda che può ottenere credito e un'azienda che non potrà ottenere credito quindi ci teniamo a precisarla questo perché è un legame a doppio filo molto importante ecco esattamente a doppio filo perché insomma le aziende che rispettano la normativa e i criteri saranno inevitabilmente privilegiate in quest'ottica quindi appunto non stiamo parlando di discorsi teorici ma estremamente di un fatto pratico e concreto ecco in conclusione di questa tavola rotonda noi abbiamo appunto messo sul piatto tantissimi spunti relativi alla finanza alternativa alla crisi anche del sistema bancario naturalmente tutti gli argomenti relativi agli ESG ma sono tutte ecco queste realtà che sicuramente non sono nuove per voi anzi le portate avanti da tantissimo tempo M-Advisor le porta avanti da tanto tempo non solo con attività di consulenza ma anche con appunto relazioni istituzionali ecco in conclusione se ce ne volete parlare di questo aspetto lascio carino tranquillamente allora no facciamo dei convegni noi siamo per il dialogo e per l'educazione sia delle imprese che dei investitori istituzionali perché c'è una mancanza qua di dialogo e di solito quando non c'è una comprensione giusta dei concetti sottostanti che ogni tanto erano teorici poi sono dogmatici poi pratici e poi direi che abbiamo stabilito questo dialogo e continuiamo a farlo con direi tre convegni mediamente all'anno che hanno un grande successo ogni tanto tra 80 o 100 o più partecipanti e parliamo sempre delle tematiche che sono di adesso e in modo concreto o abbiamo le richieste e sappiamo che io adesso parlo del mondo istituzionale italiano che abbiamo visto ha una liquidità tremenda da investire ma non sa dove andare e poi i criteri ESG adesso hanno limitato le possibilità quindi anche chi vuole investire chi ha l'idea di andare su nuove business abbiamo parlato di green bond e poi c'è tutto il mondo che non è ancora green che vorrebbe avere i criteri ESG ricevere il finanziamento abbiamo fatto una presentazione sul mondo fotovoltaico poi c'è tutto ciò che sono le energie entrambi che cercano finanziamento e proviamo di partire dalla domanda sempre da dove c'è la liquidità per tradurre verso l'impre verso i progetti che noi riteniamo opportuni dove ci chiedono aiuto per fare una traduzione di parametri che possono essere satisfacenti per le ente previdenziali alla fine e fare questo matching perché l'economia italiana ha bisogno di finanziamento non può perdere quello però è vero che chi ha bisogno di finanziamento deve capire che il mondo istituzionale comunque ha adesso dei obblighi importanti in termini degli ESG quindi non è così come prima e dove ci posizioniamo è un contesto certo diverso e sottolineiamo anche il valore appunto della comunicazione anche della formazione perché in questo momento così importante insomma decisivo è fondamentale avere un background un bagaglio anche culturale proprio per saper poi dove allocare le risorse perché parliamo certamente di aziende ma poi parliamo anche di privati di cittadini ecco che devono difendere i propri risparmi i portafogli e quindi anche questo tema dell'educazione finanziaria che noi portiamo avanti sicuramente diventerà sempre più centrale dottor Toschia lei il punto esclamativo su questa tavola rotonda no diciamo che qui metto sul tavolo una provocazione che significa noi abbiamo sempre lavorato e siamo nati parlando di fintech dal 2017 al 2018 quindi dottores puoi immaginare la fatica che ci è voluta per portarlo poi ad essere uno strumento semplice diciamo utilizzabile ma abbiamo sempre detto che il mondo delle imprese si deve evolvere anche su un punto di vista relazionale cosa significa questo significa che noi che facciamo anche relazioni istituzionali per le imprese o anche tramite i convegni quindi in qualche modo avvicinando la parte degli investitori alla parte delle imprese a quei progetti che sono strategici o comunque rilevanti riteniamo riteniamo che oggi dalla piccola alla media o alla grande impresa che già ce l'ha la possibilità di inserire all'interno del proprio organico un cosiddetto relationship manager o comunque una persona che si occupi di tenere gestire consolidare le relazioni istituzionali che significa controparti fornitori controparti clienti controparti bancari controparti finanziari controparti investitori ecco questa figura oggi è centrale noi come società ci occupiamo anche di questo e lo facciamo in due modi da una parte internamente alle imprese come relazioni istituzionali quindi gestendo tutta una serie di richieste dall'altro come diceva appunto Karim organizzando in maniera molto devo dire specifica puntuale dei convegni riservati che però vanno a porre degli accenti su quelli che sono i nuovi trend o comunque le novità che ci possono essere giustamente diceva il dottor Sgaier e li abbiamo organizzati addirittura a partire dal 2021 a dicembre dal 2022 3-4 l'anno diciamo li portiamo avanti e vediamo un grandissimo interesse di investitori di imprese fondi pensione casse di previdenza perché perché come dicevamo prima c'è una necessità fortissima di accorciare il dialogo tra banca finanza investitori e economia reale noi crediamo che facendo questi convegni e facendo quella che è l'attività di relazioni che noi portiamo avanti stiamo vedendo e oggettivamente un avvicinamento molto importante però ribadisco c'è bisogno di una figura che possa come dire occuparsene e tra l'altro a nuove esigenze si accompagnano anche nuove professioni lo sviluppo anche appunto di nuove figure assolutamente bene siamo giunti alla conclusione di questa tavola rotonda dedicata appunto agli strumenti della finanza alternativa io ringrazio davvero i miei ospiti il dottor Alessandro Toschi CEO and Founder di AM Advisor grazie a lei grazie ancora e il dottor Karim Sgaier signor advisor di AM Advisor grazie davvero per essere stati con noi grazie grazie termina dunque qui ecco questa puntata di Instant Focus non alla programmazione di Le Fonti TV quindi mi raccomando restate e continuate a seguirci grazie a tutti 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 Grazie per la visione!